Da ex area dismessa quartier generale per la gronda autostradale, è un'intesa storica quella sottoscritta tra sviluppo Genova Spa e autostrade per l'Italia Spa. Quest'ultima ha ottenuto l'utilizzo in affitto delle ex aree Colisa di Campi per i prossimi dieci anni e comunque per il tempo necessario alla corretta esecuzione dei lavori. A partire dal prossimo inverno, presumibilmente entro novembre, l'area diventerà un polmone essenziale dove insediare uffici, mezzi e attrezzature per la via del cantiere della gronda. Un'opera fondamentale attesa da anni che dovrebbe alleggerire in modo significativo il traffico del nodo genovese. Nell'accordo è previsto che l'area potrà essere utilizzata per i prossimi dieci anni con il pagamento dell'affitto anticipato già nel corso del primo anno. Quello raggiunto con la società autostrade, afferma l'amministratore delegato di sviluppo Genova Spa, Franco Floris, è un accordo interessante, fondamentale per la città, frutto di un lavoro impegnativo svolto dai nostri uffici e dai nostri tecnici. Con l'accordo appena siglato è stato raggiunto un risultato di ampia portata. Tutta l'area era stata bonificata dalla nostra società e ora potrà essere utilizzata per la gronda. Una volta concluso l'intervento e dismesso al cantiere, l'area ex Colisa tornerà in passesso di sviluppo Genova, completamente urbanizzata e disponibile per le altre attività.